I saldi invernali dureranno come sempre fino al prossimo 28 febbraio, la decisione della Regione Puglia che ha ripristinato la durata complessiva delle vendite di fine stagione dopo che inizialmente aveva deciso di anticiparne la chiusura al 31 gennaio 2017, ma i commercianti comunque insistono per la piena liberalizzazione delle vendite a saldo. Controordine. I saldi 2017 dureranno come sempre quasi due mesi. Dopo le proteste delle associazioni dei commercianti e tra queste in particolare quella di un'impresa BAT, la Regione Puglia, con un provvedimento dell'ultima ora, riporta la situazione allo stato precedente, affermando ancora una volta di aver concertato questa ennesima decisione con le associazioni di categoria. Saldi invernali 2017 dunque che partono il prossimo 5 gennaio per terminare il 28 febbraio 2017. Poiché, come spesso accade, il rimedio è peggiore del male, si legge in una nota diffusa da un'impresa BAT, ecco che anche questa decisione unilaterale e non concertata sul campo, ma assunta su comode poltrone imbottite, non piace ai commercianti che ormai da anni stanno chiedendo che i saldi siano veramente di fine stagione, quindi che comincino non prima dell'ultima settimana di gennaio per poi terminare a fine febbraio o comunque non comincino ad inizio gennaio perché ciò compromette le vendite natalizie. L'associazione Un'impresa BAT da sempre sta portando avanti questa battaglia e Savino Montaruli interviene sull'argomento dicendo ormai la situazione è fin troppo chiara e le sono scoperte. La Regione Puglia comincia a fare autocritica e lo faccia non solo insieme ai suoi fedelissimi che si contraddicono ogni istante assumendo provvedimenti anticommerciali al limite del personale non condivisi. Questo ha già prodotto tantissimi danni ed è un andazzo che va fermato subito. Da anni stiamo sostenendo e promuovendo azioni che sono quelle stesse dei commercianti che chiedono chiarezza e certezza in merito al senso delle vendite a saldo. Quindi avanti con la rimodulazione delle date perché i saldi siano veramente di fine stagione mettendo anche sul tavolo della discussione la loro liberalizzazione all'interno di un sistema libero ma ordinato.